Stefano Pesce ha il debutto con un progetto di regia. Dopo che ti abbiamo visto tante volte sul grande schermo, sul piccolo schermo, da che cosa parte questa nuova avventura? Diciamo che parte dalla necessità a 50 anni di iniziare a vedere la realtà dall'altra parte. Mi sono messo a studiare regia, mi sono messo a studiare scrittura e quindi ho prodotto un primissimo cortometraggio che spero di riuscire a realizzare con un cast tecnico di questi luoghi, cioè Veneto, che mi sostenga nel filmare una città che secondo me è poco raccontata a Treviso, di cui mi sono innamorato tanti anni fa, in cui ho fatto addirittura una società di produzione. Con questa piccola società di produzione mi avvio a iniziare la strada di un regista più che di un autore. Ho un gusto per l'immagine, logicamente, ho un gusto per una direzione, per la costruzione delle storie da attore e questo mi, diciamo così, mi tranquillizza in questo nuovo lavoro, che mi rendo conto della difficoltà. Però inizio a fare una piccola cosa, si tratta di un film di 10 minuti, però di cinema, per fare un film. Questo. Da punto di vista attorale, in questo momento continuo la mia carriera. Il 31 ottobre esce il film di Siani, il quale io faccio un cattivaccio, ma siamo quasi Jolly Joker. È proprio un racconto surreale, un bambino che fa volare le macchine. Insomma, Siani, Alessandro mi ha chiamato, lo conosco da tanti anni, ha detto ma vieni a fare questo personaggio, mi sono molto divertito. Rai 1 invece presenta i ragazzi dello Zecchino d'Oro, ambientato a Bologna. Io sono bolognese, faccio un genitore di questi ragazzi dello Zecchino d'Oro. Mi appresto a girare i quattro film per Mediaset, Il silenzio dell'acqua 2, dove faccio un uomo che ritorna e che scombina gli equilibri. E in ottobre devo girare un film con Donatella Finocchiaro per la regia di Andrea Muzzi, scritto un film con Ugo Chiti. Questo, diciamo così, è quello che le grosse cose che mi aspettano prossimamente. Hai visto qualche film? Ti è piaciuto qualcuno in particolare? No, è peccato, non ho ancora visto niente, sono arrivato poco fa, però questo pomeriggio vado a vedere Enfille, questo film tunisino alle 14.30. Infatti adesso devo andare a cambiare i biglietti elettronici con quel biglietto.